Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo headset da gaming economico, modello C06, distribuito e prodotto ovviamente da Easy SMX, disponibile su Amazon ma anche sul sito web ufficiale, ad un costo che dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 e i 35€. Prima di aprire la confezione e vedere che cosa si c'era al suo interno, scopriamo insieme le informazioni che vengono riportate sulla confezione. Premetto però che c'è una cosa abbastanza negativa, il fatto di mettere la cuffia e le colorazioni in questo colore su una scatola nera. Praticamente non si legge e non si vede una mazza. Infatti bisogna mettere in controluce per leggere le colorazioni disponibili, cioè nero e rosso, nero e giallo, nero e blu, che è quella che vi mostro oggi, nero e verde, nero e arancione. Non so perché abbiano deciso di usare questi font, questo colore e anche le cuffie e non metterle bene in risalto, però va bene, sono dettagli irrilevanti. Le cuffie sono con cancellazione del rumore per quanto riguarda il microfono, LED e possono essere regolate, quindi diciamo si tratta di cuffie abbastanza personalizzabili in posizione. E poi sono compatibili con PC, Mac, Playstation 4 e Xbox, quindi potete utilizzarle sì su Xbox, Playstation, PC e Mac, non solo per ascoltare l'audio ma anche per dialogare con i vostri amici. Detto questo, apriamo la confezione e vediamo che cosa si c'è al suo interno. Tiriamo fuori l'headset e tutto quello che c'è. Abbiamo questo cavo che praticamente funge da split su PC, come vedete, e funge da cavo per Playstation 4 e Xbox One. Poi abbiamo la garanzia, credo, manuale di istruzioni dove vengono illustrate le caratteristiche dell'headset, vedete, e poi l'headset, che è la cosa che ci interessa. Quindi tiriamolo fuori dalla busta ed eccolo qua. Allora, l'headset non è wireless, non è bluetooth, ma è con cavo, come potete vedere. Non può essere scollegato il cavo, la stessa cosa per il microfono, perché di solito ci sono delle cuffie, tipo quelle di Turtle Beach, che hanno il microfono che può essere staccato e attaccato all'occorrenza. In questo caso, no. Il cavo è USB per i LED e poi c'è il jack che alimenta cuffie e microfono, vedete. E poi abbiamo la console di comando, io la chiamo così, diciamo, per gestire sia il volume delle cuffie e sia attivare o meno il microfono. Quindi in qualsiasi momento disattivate, attivate il microfono, abbassate e alzate il volume da qua. Non ci sono pulsanti praticamente sulla cuffia, vedete, non c'è nulla, a parte il logo, però non c'è praticamente niente, quindi non vi sono di solito i pulsanti che vanno premuti sulle cuffie, ma li avete tutti a disposizione qui. Il microfono può essere regolato in posizione, come potete vedere, ha la cancellazione del rumore, vedete, è molto particolare. Per questo motivo non ha il classico supporto in spugna che viene messo sul microfono per attutire i rumori esterni, quindi in questo caso qua non ne avete bisogno. Possono essere ovviamente regolate tramite questo supporto in metallo, vedete, sono estendibili, non eccessivamente ma abbastanza, sono molto personalizzabili, vedete, possono adattarsi al meglio sulla testa del giocatore. Sono comode da indossare perché presentano driver, questi qua, molto morbidi, molto generosi in termini di dimensione, e sono anti sudore, anti scivolo, quindi diciamo si adagiano perfettamente alle orecchie del giocatore. E sono molto molto leggere, vedete, sono leggerissime, o meglio, vedete, immaginate, sono abbastanza leggere, quindi diciamo sono un buon prodotto per coloro che ovviamente sono alla ricerca di un headset economico funzionale e leggero. Qui ho a disposizione una porta USB, vediamo come si accendono queste cuffie, quindi colleghiamo questa, attacchiamo le cuffie e vediamo come si accendono i led. Eccoli qua, vedete, si accende praticamente sia il logo della compagnia che il microfono. Niente di elaborato, però comunque è abbastanza, abbastanza carino come, come effetto, quindi ha, ha la sua, fa la sua figura, diciamo, sia su PC che su console. Se siete interessati all'acquisto lo trovate, come vi ho detto, sul sito web ufficiale su Amazon. Grazie a tutti.